La Gerta, una guerriera leggendaria tra mito e storia una Skjaldmajer con un destino regale, la Gerta, figura che emerge dalle brume della leggenda norrena, narra di una Skjaldmajer, una donna guerriera che governò la Norvegia. La sua fama risuona come prima moglie di Ragnar Lothbrok, leggendario re di Svezia e Danimarca. La sua storia, tramandataci da Saxo Grammaticus nella sua opera Gesta da Norum, narra di una vita avventurosa e ricca di colpi di scena. Valore e astuzia al servizio della libertà le Gesta di la Gerta non si limitano al campo di battaglia. La leggenda narra di come, quando il re di Svezia FR invase la Norvegia, imprigionando le donne del casato reale in un bordello, la Gerta, rifiutando di sottomettersi, si travestì da uomo e combatte al fianco di Ragnar. Il suo valore e la sua astuzia la portarono a conquistare il cuore del guerriero vichingo, che la prese in moglie. Un amore tormentato e una regina tenace tuttavia, il destino non fu clemente con la Gerta. Dopo tre anni di matrimonio, Ragnar la ripudiò per un'altra donna. Ma quando il fatto lo condannò, fu proprio la Gerta ad accorrere in suo aiuto, guidando un esercito di 120 navi e salvandolo dalla sconfitta. Nonostante i tradimenti e le avversità, la Gerta dimostrò tenacia indipendenza, ritornando in Norvegia per governare da sola. Eredità di una leggenda, la figura di la Gerta, seppur avvolta nel mistero e con la sua esistenza messa in dubbio da alcune fonti storiche, rimane iconica. Il suo coraggio, la sua abilità nel combattimento e il suo spirito indomito l'hanno resa una leggenda immortale nella cultura vichinga. La sua storia continua ad ispirare generazioni, incarnando l'ideale di una donna forte, indipendente e capace di forgiare il proprio destino. Oltre la Gerta, eroi e avventure nelle saghe nordiche, punto saghe leggendari e norrene, come le Fornaldar Sogur, offrono uno scrigno di storie epiche popolate da eroi e avventure. Tra questi, troviamo figure come Sigurd il draghesizzatore, Ragnarlo Broc e Bosi, paladini di coraggio, onore e imprese epiche. Questi eroi, con le loro storie intrecciate con divinità e destino, ci offrono un affascinante spaccato sulla cultura e la mitologia dell'antica Scandinavia o un'immersione nel passato. Le gesta di la Gerta e degli altri eroi delle saghe norrene ci trasportano in un mondo di battaglie, passioni e intrighi, permettendoci di rivivere le atmosfere e i valori dell'antica Scandinavia. La loro eredità ci ricorda il potere delle storie di ispirare, motivare e intrattenere, rendendole un patrimonio prezioso da custodire e tramandare.